Il Cardarelli, l'ospedale più grande del Molise e centro di riferimento per le patologie e tempo dipendenti, dal 5 ottobre torna in lockdown. In Contrada Tappino saranno assicurati soltanto gli interventi urgenti con buona pace dei livelli essenziali di assistenza ed è spaventoso pensare alla lunghezza delle liste di attesa che questo provocherà. Ci sono responsabilità politiche regionali e responsabilità di ruore e funzione nell'ambito liberale. Quindi, a mio avviso, non è che perché c'è una comunicazione i pazienti scomparono. Se il paziente non può ricevere delle prestazioni dalla struttura pubblica con denaro pubblico, per le altre strade, e le strade le sappiamo quali sono, i cittadini, i pazienti, tra alcuni pazienti di questa regione, non sono dei sudditi, sono dei cittadini italiani che hanno dei diritti. Quindi, a mio modestissimo avviso, dovrebbe saltare la dirigenza aziendale e la giunta regionale, il Consiglio regionale, dovrebbero prendere dei problemi prima con se stessi. Queste le parole del dottore Giovanni Pulella, in qualità di segretario regionale Cosmed Molise, che in una conferenza stampa ha denunciato dunque le gravi ripercussioni che il lockdown che ci sarà all'ospedale Cardarelli di Campobasso provocherà. Servirebbe un miracolo senza anestesisti. Da lunedì, Cardarelli chiuso.